buongiorno a tutti e benvenuti alla primissima puntata di business english io sono mattia dottore in giurisprudenza e docente madrelingua d'inglese presso il centro mensana di brescia in questo corso noi proveremo a mostrarvi quali sono le parole e le espressioni formali della lingua inglese in ambito commerciale alcuni documenti aziendali la loro redazione le loro parti salienti e alcuni esempi di corrispondenza commerciale se il video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info farewell